Benvenuti nella video guida definitiva di Final Fantasy 7 Remake. Con questa video guida andremo ad analizzare tutti gli incarichi presenti nel gioco. Nel gioco infatti sono presenti 26 incarichi, ma solo 24 possono essere completati, dato che nel capitolo 9 il completamento di alcuni incarichi causerà l'annullamento di altri. Solo i capitoli 3, 8, 9 e 14 hanno degli incarichi, gli altri capitoli sono totalmente assenti. Andiamo quindi a vedere come sbloccare l'incarico Amici Scomparsi. Parlando con la bambina, questa vi chiederà di recuperare i suoi gattini. Dovrete semplicemente ricarvi nella posizione indicata per completare l'incarico. Il gioco automaticamente vi chiederà di portarvi. Vi ringrazio per la visione, vi invito a mettere mi piace e ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video. Amici Grazie a tutti. Sì, cosa stai facendo? Ho scocato una di miei pastri e scurriato in lì. Sì, sei un dì e mandi un'handa? Questo è vero. Oh, scusate questo. Grazie per la visione!